Buonasera e bentrovati dalla redazione di Telemolisi, ultimo appuntamento della giornata con la nostra informazione che apriamo con la pagina economica perché oggi a Roma si è riunito il tavolo ministeriale sul futuro dello zuccherificio del Molisi, allora sentiamo in apertura da Manuela Iorio, come è andata? La micro campagna dello zuccherificio del Molise ci sarà, è l'esito della riunione al Ministero delle politiche agricole a Roma dove questa mattina c'è stato il tanto atteso tavolo, convocato grazie alla forzatura di sindacati e lavoratori che la settimana scorsa in 40 si sono presentati davanti al Ministero con un sit-in. La forma di protesta ha di fatto riacceso l'attenzione del di Castero che aveva subito convocato per oggi una riunione a cui hanno partecipato anche i sindacati locali e nazionali. Presenti molti funzionari del MIPAF oltre allo stesso direttore generale del Ministero, Felice Assenza, è stato annunciato l'avvio della semina da parte della SRL di 50 ettari sui terreni demaniali, confermando così la quota di produzione di zucchero in capo alla medesima Agnunco. Una semina tardiva è che sposterà quest'anno la lavorazione della barbabietola di almeno tre mesi rispetto al tradizionale inizio. Alla riunione romana, durata quasi tre ore, ha partecipato anche il senatore Roberto Ruta che ha chiesto garanzie per i dipendenti e per la lavorazione dello zucchero. Nell'incontro si è deciso che i dettagli della campagna si discuteranno in un tavolo che verrà spostato in Molise e a cui anche il Ministero sarà presente con un suo delegato per seguire tutto da vicino, fermo restando che la responsabilità della gestione resta in capo alla Regione. Soddisfatti i sindacati che aspettano ora che si convochi il tavolo regionale con urgenza, a cui probabilmente verrà chiamata a partecipare anche Area Food, che a sua disposizione ha diverse decine di ettari seminati in terreni privati già dallo scorso marzo e che sta andando avanti con il confezionamento del prodotto e con la diffusione del brand zucchero italiano, tanto che in questi giorni sta partecipando a un importante evento sull'alimentazione in Cina, dove la società si è preparata anche con la traduzione di volantini e brochure in cinese da distribuire a potenziali clienti. Un'importante vetrina di promozione che ha l'obiettivo di acquisire nuove fette di mercato, ha spiegato il patron di Area Food, Diego Volpe Pasini. Domani dalle 10 alle 14, davanti alla Giunta regionale a Campobasso, presidio organizzato da CGL, CISL e UIL per riproporre i temi che riguardano le tante vertenze di lavoro in atto. E dunque ci saranno i lavoratori che prenderanno la parola, tra loro anche il mondo della scuola, che ribadirà la sua contrarietà al provvedimento del governo Renzi. Ora invece parliamo di noi perché nell'ultima riunione del Consiglio regionale è stata approvata a maggioranza dal solo centro-sinistra la legge a sostegno all'editoria locale, che possiamo definire già legge truffa poiché esclude solo Telemolise da ogni beneficio. Quindi è un provvedimento mirato a colpire chi ha sempre fatto una corretta informazione, che evidentemente non è stata gradita da una parte del potere politico. L'editore Quintino Pallante ha già dato mandato allo studio legale degli avvocati Pino Ruta e Massimo Romano di impugnare la legge in tutte le sedi giudiziarie. Sentiamo allora il nostro direttore Manuela Petescia. La legge sull'editoria va avanti. Lo aveva annunciato il Consigliere regionale Nico Ioffredi due anni fa. Un avvertimento preciso, inconfondibile, dopo che Telemolise aveva avviato la sua serie di servizi sulle indennità dei consiglieri regionali del Molise, indennità poi portate alla ribalta nazionale dalle Iene con le figuracce sciagurate che tutti ricordano. E la legge finalmente è arrivata. Immaginare una legge studiata apposta, rigo per rigo, clausola per clausola, postilla per postilla, per distruggere un'azienda, è un esercizio che oggettivamente travalica il realismo politico più spinto. La legge sull'editoria approvata dal Consiglio regionale del Molise nasce così, contro Telemolise. Nasce e speriamo muoia, né più e né meno dei diversi provvedimenti schizofrenici varati da questa giunta regionale. La impugneremo ad ogni livello e in ogni sede, dalle autorite per la concorrenza alla Procura della Repubblica. Il primo passo sarà infatti una denuncia per abuso d'ufficio in danno, trattandosi di un provvedimento mirato a penalizzare un'azienda e una sola in particolare. Un provvedimento che nasce dall'avversione ben nota e ampiamente provata che frattura, riserva alla nostra emittente. L'abuso d'ufficio infatti non è previsto solo per chi produce un vantaggio in debito, ma anche per chi compie un'illegittimità con l'obiettivo contrario, cioè quello di arrecare danno a qualcuno. Micidiale, in particolare, è l'emendamento 17, presentato personalmente da frattura e approvato dal centro-sinistra con il voto contrario del centro-destra e del Movimento 5 Stelle. Una clausola mirata inequivocabilmente a tagliare fuori Telemolise, un meschino stratagemma che esclude solo l'azienda editoriale più grande della regione, con i suoi dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato e con una dotazione tecnologica tra le più avanzate dell'intero panorama radio-televisivo a livello nazionale. E chi ha proposto questo emendamento, cioè Paolo di Laura Frattura, e chi lo ha votato, e cioè il centro-sinistra, lo sapeva benissimo, pur avendo ostentato una falsa ispirazione ai criteri della stabilizzazione del personale e degli incentivi per creare nuova occupazione. La razio essenziale della legge è stata tradita, si è trovato cioè il modo per finanziare tutti tranne Telemolise, violando palesemente anche le norme sulla libera concorrenza. Telemolise si opporrà e resisterà con tutte le sue forze a questo ennesimo atto ingiusto e inutilmente autoritario e dimostrerà anche nelle sedi opportune come questo sia stato concepito, studiato, annunciato e poi realizzato per punire una voce forte che si è opposta in particolare alla politica affaristica, all'aumento delle indennità, alle biomasse, al molise dei pochi, al molise dei soci, ai vitalizi e all'inerzia amministrativa. Una voce libera contro il vero e proprio regime instaurato da Paolo Di Laura Frattura. E ora la cronaca da Termoli con un episodio tutto da chiarire riguarda una donna finita in coma dopo essere caduta dal balcone di casa sua. Sentiamo Manuela Iorio. Tutte le ipotesi sono aperte. Un incidente, un gesto volontario, addirittura un tentato omicidio. Per ora la procura di Larino insieme alla squadra mobile di Campobasso che si sta occupando delle indagini non esclude nulla. Quello che si sa per certo è che la donna polacca di 34 anni che ieri sera, poco prima delle 22, è caduta dal balcone di casa in via Mario Milano a Termoli da un'altezza di circa 10 metri in condizioni critiche. Lotta tra la vita e la morte nel reparto di neurochirurgia di Campobasso dove è stata trasferita nella notte dopo un primo ricovero al Santimoteo. Ha riportato diversi traumi nell'impatto col suolo ma quello che più preoccupa i medici è il trauma alla testa. La ragazza è finita su un terrazzino che sovrasta i garage del palazzo di Treppiani abitato solo all'ultimo proprio dalla donna stessa, dal suo compagno italiano e dal figlio della coppia, un maschietto di tre anni. Il resto dello stabile è disabitato tutto l'anno. Solo d'estate gli appartamenti si riempiono con i turisti. Cosa è successo? Ieri sera ancora tutto da capire. A chiamare i soccorsi è stato il titolare della vicina pensione che ha sentito gridare e chiedere aiuto. Gli agenti della mobile stanno cercando di capire se ci sono testimoni. Sembra che qualcuno abbia visto la giovane madre sul balcone a fumare poco prima della caduta nel vuoto. Chi riferisce di aver sentito una discussione della coppia ma gli inquirenti non confermano. Stiamo ricostruendo il quadro familiare, eventuali precedenti e raccogliendo testimonianze in tutte le direzioni, spiegano dalla Questura. Ma che l'indagine stretta nel riservo lo si capisce anche dalle parole del procuratore Ludovico Vaccaro, che contattato al telefono si è limitato a un non posso dire nulla confermando però che al momento non ci sono provvedimenti o indagati. Del caso si sta occupando il sostituto Carrai che già nelle ore successive all'incidente ha ascoltato il compagno della donna, commerciante di pesce. Non è chiaro se fosse in casa o meno quando la madre di suo figlio è caduta nel vuoto. C'era di sicuro invece il bambino che nelle fasi concitate dei soccorsi è stato accudito da una cliente della vicina pensione. In via Mario Milano questa mattina diversi automobilisti passando hanno rallentato per lanciare un occhio al palazzo. È arrivata anche la proprietaria di metà dello stabile in cui vive la coppia il resto dell'edificio è invece di proprietà proprio del compagno della Polacca. Ma nessuno vuole parlare sembra che nessuno abbia visto qualcosa nemmeno i dirimpettai. Volevo chiedere se lei conosce la signora che ieri sera avuto quell'incidente nel palazzo a fianco. Non eravamo in casa e non... Ma lei non la conosce come famiglia? Comunque vivete vicini? No. Nel quartiere la coppia era conosciuta una conoscenza però superficiale limitata ai saluti. La donna veniva sempre vista in compagnia del figlioletto. Agli inquirenti ora il compito di sciogliere quello che ha tutte le caratteristiche di un giallo. Ora la cronaca giudiziaria. Un anno fa ha ucciso il fratello dopo una lite nelle campagne di Campo di Pietra con un colpo di arma da fuoco. Si è tenuta l'udienza a Campobasso del processo in corte d'assisi ed è stato ascoltato proprio l'imputato. Sentiamo Tonino Danese. Non volevo sparare, non volevo uccidere sono le parole pronunciate da Antonio Laporta ha parlato per mezz'ora abbondante rispondendo alle domande in aula in corte d'assise. Ha raccontato cosa è accaduto quella domenica mattina del 25 maggio 2014 nelle campagne di Campo di Pietra e in carcere a Campobasso accusato di omicidio. È stato lui a premere il grilletto della pistola e a uccidere il fratello Vincenzo 65 anni al termine di una lite per una questione di confini e terreni. Ero andato a votare con mia moglie quella mattina detto poi a ritorno ho deciso di pulire la pistola di un mio fratello deceduto la stavo portando nel garage quando ho visto i miei nipoti che stavano costruendo un recinto per animali ho chiesto spiegazioni a mia madre e a Vincenzo ma lui ha reagito colpendomi con pugni dicendomi che vuoi chi sei una reazione inaspettata perché ci volevamo bene andavamo d'accordo l'imputato ha continuato raccontando della lite le urla all'arrivo dei figli del fratello la paura di essere ammazzato di botte da persone più grosse di lui me la sono fatta sotto per i calci e i pugni ricevuti quindi ho tirato fuori la pistola volevo intimorirli per poi scappare Antonio Laporta ha dichiarato di aver caricato l'arma senza capire nulla di non aver sparato volontariamente che il colpo è partito accidentalmente pensavo di non aver colpito mio fratello me ne sono accorto solo quando ho visto il sangue ho chiesto ai miei parenti di portarlo in ospedale l'imputato ha riferito di essere tornato a casa e di aver informato la moglie che sarebbe andato in caserma perché credeva di aver solo ferito Vincenzo una volta in strada ho visto i carabinieri mi sono fermato un racconto drammatico ascoltato tra le lacrime dai familiari in aula parti civili rappresentate dagli avvocati Fabio Albino e Angelo e Valentina Piunno l'avvocato difensore Carmine Verde punta a dimostrare la non volontarietà dell'omicidio il PM e Nicola D'Angelo ascoltato anche il perito della procura che ha ricostruito la traiettoria del proiettile altri testimoni saranno ascoltati nella prossima udienza il 28 maggio e ora con Enzo Di Gaetano tutte le ultime novità sul possibile rilancio dell'ITR e dell'intera filiera del tessile in Molise sentiamo concordato ITR indirittura d'arrivo la complessa procedura per il subendro di IKF alla società OTI si attende il via libera dei giudici di Isernia a Milano e c'è chi come l'assessore alle attività produttive Scarabeo si dichiara fiducioso nel buon estio della complessa procedura Adesso aspetta il nulla osta da parte del Tribunale di Isernia e quello di Milano credo che ci siano tutte quante le carte regola per riprendere questo cammino un percorso che è necessario che è indispensabile in questo momento stagnante ma direi di più in questo momento di vera e propria recessione ma soprattutto una boccata di ossigeno per questa città e per la provincia di Isernia nella sua piena interezza Ma la regione nel rinancio del settore tessile sembra crederci davvero nel giro di qualche settimana Isernia dovrebbe ripartire sia l'ITR che nascere la seconda struttura produttiva della Missardi il tutto reso possibile anche dal sostegno e dall'accompagnamento finanziario regionale Assessore ma complessivamente la regione quando mette a disposizione del tessile la ripresa per TSI KF Calugi e quanti altri volessero iniziare un'attività Guardi consideri che noi abbiamo 38 milioni di euro disponibili come fondo di garanzia quindi il rapporto tra l'imprenditore e l'istituto bancario di riferimento e riusciamo a garantire con il braccio operativo dell'assessorato allo sviluppo economico la FIMMOLISE nella misura massima dell'80% abbiamo messo in campo ulteriori misure di accompagnamento al credito 8 milioni di euro per quanto concerne l'innovazione il modello cooperativistico l'internazionalizzazione delle imprese il sostegno alle fiere ma soprattutto anche la partecipazione da parte degli imprenditori ai bandi europei in maniera diretta quindi mi riferisco al programma COSME che ha una dotazione finanziaria di 2.800 milioni di euro e Horizon 2014-2020 nella rimodulazione dei fondi dell'autostrada abbiamo appostato 60 milioni di euro e poi è chiaro abbiamo anche l'opportunità per quanto concerne il riconoscimento di area di crisi che è un'opportunità straordinaria che in questo momento dà quel valore aggiunto alla nostra regione rispetto agli altri competitor che in questo momento insomma hanno sicuramente meno risorse da poter mettere in campo A Campobasso l'opposizione accusa l'amministrazione di aver perso i fondi destinati all'edilizia scolastica ce ne parla Anna Maria Di Matteo L'assessorato ai lavori pubblici del comune di Campobasso guidato da Pietro Maio finisce nella bufera i consiglieri comunali di opposizione hanno sferrato un attacco durissimo nei suoi confronti e nei confronti dell'intera struttura l'accusa è quella di gestire male un settore strategico per lo sviluppo della città la goccia che ha fatto traboccare il vaso la perdita di cospicui finanziamenti per l'edilizia scolastica fondi messi a disposizione della regione la maggioranza ha più volte preso le distanze dall'assessorato hanno denunciato i consiglieri di opposizione una situazione di impasse che ha ripercussioni gravissime sull'attività amministrativa del comune questa conferenza stampa è stata convocata di urgenza per denunciare l'operato dell'assessorato ai lavori pubblici qui in città di Campobasso assistiamo veramente a un collasso del settore ad un'operosità che sta portando dei veri e seri problemi sui lavori in città principalmente il primo punto dove ci soffermiamo è quello dell'edilizia scolastica la città di Campobasso il comune di Campobasso ha perso una grande opportunità di un finanziamento statale verso la regione che chiamava i comuni a presentare i progetti per quanto riguarda le normative e la sicurezza degli edifici scolastici oggi assistiamo a una bella dove tutti i comuni della regione hanno acquisito questo finanziamento dietro la presentazione di progetti e l'assenza generale del comune di Campobasso l'appello al sindaco Battista è di rimodulare rimuere un attimo questa aggiunta e di inserire delle figure competenti all'interno dei settori avevano in macchina oltre un chilo di marijuana due donne del napoletano sono state arrestate dai carabinieri di Bagnoli del Trigno Maxi sequestro di droga in provincia di Senni a Civitanova del Sannio i carabinieri della stazione di Bagnoli del Trigno nel corso di un controllo sulla Trignina hanno fermato un'autovettura smart coupé con a bordo due donne che alla vista dei militari hanno mostrato chiari segni di nervosismo si è proceduto così ad una perquisizione e occultate sotto il sedile del passeggero sono state rinvenute oltre un chilogrammo di sostanze stupefacenti del tipo marijuana custodite all'interno di un sacco di cellofan mentre all'interno del cruscotto venivano rinvenute anche numerose dosi di hashish le due donne una 53enne di Giuliano ed una 43enne di Villaricca già con precedenti al loro carico sono state tratte in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e trasferite presso il carcere femminile di Chieti tutta la droga rinvenuta e il veicolo utilizzato per il trasporto sono finiti sotto sequestro mentre sono ancora in corso altre indagini per accertare dove e a chi fossero destinati gli stupefacenti a Rionero Sanitico i militari della locale stazione hanno denunciato un quarantenne ed un 32enne di origine rumena residenti a Isernia che sono stati sorpresi con un autocarro mentre trasportavano circa 5 quintali di rifiuti speciali senza alcuna autorizzazione a carico dei due romeni che dovranno rispondere di trasporto illecito di rifiuti speciali è stato eseguito il sequestro del veicolo con il pericoloso carico 100 grammi di cocaina pura sequestrata ed un corriere di origine albanese finito in manette questo l'esito di un'operazione antidroga della guardia di finanza del comando provinciale di Campobasso in Basso Molise le fiamme gialle hanno fermato una vettura a San Martino in Pensili scondotta da un albanese di 35 anni residente a San Severo l'uomo è stato arrestato e poi trasferito in carcere a Larino cambiamo argomento parliamo ora di un nuovo progetto per dare opportunità di lavoro ai diversamente abili progetto messo a punto dalla cooperativa Lavoro Anch'io di Isernia sentiamo Sergio Di Vincenzo dopo mesi di preparativi a Sant'Agapito è diventato realtà l'orto botanico produttivo della cooperativa Lai Lavoro Anch'io di Isernia è una nuova grande opportunità per dare lavoro ai soci della struttura in questi campi i ragazzi si impegneranno ogni giorno per coltivare prodotti tipici locali come la cipolla o i fagioli e per produrre miele Pappa Reale c'era è un'iniziativa sulla quale stavamo lavorando da diversi anni grazie all'intervento della regione e grazie anche al nostro volontà di rischiare perché naturalmente la cooperativa Lai sta rischiando in proprio alcuni investimenti e certo non è che possiamo diciamo così permettercelo ma il rischio vale la candela perché abbiamo creato una struttura che permette a questi ragazzi di lavorare in una fabbrica quella struttura che abbiamo che comunque è bellissima sta all'interno di una scuola e però è una struttura chiusa mentre qui abbiamo la possibilità di organizzare dei gruppi di lavoro sul terreno a contatto con la natura all'aria aperta e al tempo stesso vogliamo sviluppare quel principio che dicevo prima in conferenza stampa di una emancipazione economica il progetto è il frutto della collaborazione tra varie enti e associazioni tutti concordi nel portare avanti un progetto di agricoltura sociale dalle indubbie potenzialità è un bel esempio di integrazione di un'attività produttiva con imprese non profit e quindi c'è sicuramente un ruolo sociale dell'iniziativa ma nello stesso tempo fornendo il nostro supporto tecnico scientifico potremmo ricavare da questa iniziativa anche degli importanti dati sperimentali per esempio quelli che avete visto in allevamento le api sono tutte famiglie provenienti da apicoltori tradizionali molisani alla nuova attività imprenditoriale ha dato la sua benedizione il vescovo della diocesi di Sernia Venafro Monsignor Camillo Cibotti che naturalmente vede di buon occhio questa iniziativa che oltre a puntare sull'agricoltura strizza l'occhio al sociale penso che sia la risorsa vincente per un territorio così ricco e così bello pensavo alle parole del Papa che il 2 maggio ha rivolto a tutti gli Sernini alla diocesi Sernia Venafro quando parlando dei giovani e del fatto che il lavoro è sempre più è sempre più precario ci ha invitato a trovare nuove risorse e a impiegare i giovani inventandosi il lavoro beh penso che la cooperativa Lai ci ha anticipato Aperte le preiscrizioni a Campobasso all'asilo nido Bianconiglio di Via Verga lo rende noto l'assessorato alla pubblica istruzione che ha spiegato che il nido è aperto ai bambini di qualunque nazionalità e religione che abbiano compiuto tre mesi e fino a tre anni i genitori interessati possono rivolgersi allo sportello dell'istruzione in via Cavour L'esercito ha ricordato a Campobasso i cento anni dallo scoppio della prima guerra mondiale vediamo servizio di Valeria Farina Cento anni di storia di valori condivisi e di soldati morti per la patria Alla vigilia del centenario dello scoppio della prima guerra mondiale il comando militare esercito Molise ha presentato oggi l'iniziativa L'esercito Marciava promossa su tutto il territorio nazionale Una giornata quella del 19 maggio in cui sfilerà per le strade di Campobasso la fanfara della brigata Garibaldi ci sarà poi l'inaugurazione della mostra fotografica sulla prima guerra mondiale e l'arrivo dei soldati del dodicesimo reggimento Genio Guastatori di Foggia per una staffetta che attraverserà tutta l'Italia e che arriverà il 24 maggio a Trieste L'esercito Marciava che prefigura idealmente il movimento per l'avvicinamento al fronte avviato cento anni fa dai soldati chiamati alle armi e provenienti da tutta la penisola L'esercito Marciava in particolare prevede alcune attività una fra tutte lo svolgimento di staffette podistiche che percorrendo itinerari prestabiliti giungeranno il giorno 24 nella città di Trieste Colgo questa occasione per invitare tutta la popolazione in particolar modo le scolaresche a essere presenti insieme a noi anche per condividere insieme quei valori quegli ideali quei sentimenti che furono propri della società italiana in quel periodo nel periodo della guerra e che sono ancora adesso gli stessi valori dell'esercito italiano una rilettura semiseria dei promessi sposi piccolo manuale di sopravvivenza a Manzoni è il titolo della rappresentazione teatrale che verrà messa in scena dalla scuola Dovidio di Campobasso una rivisitazione a cura della professoressa Paola Mariano le scenografie sono invece delle altre professoresse Fostinelli e Oriente le rappresentazioni domani al teatro Savoia alle 11.30 per le scuole dell'istituto e poi alle 20.30 mentre si terrà sabato 16 maggio a Larino il festival musicale rassegna dei gruppi scolastici la rassegna è promossa dall'istituto comprensivo di Larino in collaborazione con il comitato festeggiamenti San Primiano Martire ed è inserita nella settimana nazionale della musica scuola sul palco della manifestazione si esibiranno cinque orchestre l'orchestra De Santis dell'istituto omnicomprensivo di Guglionesi l'orchestra e coro dell'istituto comprensivo Amatuzio Pallotta di Boiano l'orchestra dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Sernia e poi l'orchestra Magliano di Larino insieme al coro di voci bianche Maria Libera di Lena dell'istituto comprensivo di Larino dalla provincia di Caserta arriverà anche l'orchestra della scuola media a indirizzo musicale di Bellona per un totale di 300 alunni la manifestazione è prevista in piazza Duomo in caso di pioggia si sposterà nella palestra delle scuole medie l'appuntamento alle ore 20 bene è tutto con questa notizia e chiudiamo il nostro telegiornale grazie per averci seguito l'appuntamento con l'informazione di Telemolise è domani mattina alle ore 7 in punto grazie e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti